E' corsa per la pensione a quota 100 anche nelle marche dove si affollano i patronati sindacali. Maria Francesca Alfonsi. Aspettava questa data? Sì, non ne posso più. Non vedevo l'ora. Dopo 41 anni di lavoro penso che uno basta. Stefania Quercetti, appena compiuti i requisiti tra i tanti, infila il patronato Cisle per capire se potrà andare in pensione con quota 100. Per la prima finestra ad agosto lei, dipendente pubblica, dovrà fare domande entro fine mese. Nelle marche abbiamo un dato di circa 6 mila potenziali fruitori di questa nuova norma. Tra pubblico e privato. Sono in prevalenza i lavoratori pubblici che possono accedere a questa norma. Ieri è stata una giornata campale. Noi stiamo acquisendo mediamente 25-30 appuntamenti al giorno. e abbiamo complessivamente intorno a 1.600 appuntamenti già registrati in planner per tutto il mese di febbraio. 400 in vigore, ma tanti ancora i punti oscuri. Per esempio il TFR per il pubblico. 30.000 euro che dovrebbero anticipare le banche. Così sta scritto. Ma rimane da chiarire chi paga gli interessi su questo anticipo fatto dalla banca e il resto, il residuo del TFR, come verrà pagato e in quali tempi. O ancora chi causa crisi aziendali, per esempio Whirlpool o Antonio Merloni, ha usufruito di prepensionamenti in teoria escluso da quota 100. Norma peraltro, ricorda Valentini. Come dire, è un po' maschilista nel senso che non dà flessibilità, è rigida. Maschilista perché bisogna avere assoluta continuità lavorativa e per un ex operaio di piccole ditte non sempre è possibile. Insomma, valutate bene i pro e i contro perché? Una retribuzione di 23.000 euro che anticipa di 5 anni la pensione con quota 100 ha una penalizzazione all'incirca di 135 euro al mese sulla pensione che va a riscuotere. Abbiamo fatto proposte per limitare la riduzione per effetto dei coefficienti, ma ancora è nella proposta di Cigelle e Cisle Will sulla riforma della Fornero che il governo non ha voluto ascoltare.